Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano due chilometri di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna, Santa Croce sull'Arno e San Miniato provenendo da Firenze e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Cantieri di Firenze da domani fino al 24 dicembre in orario 8.30 a 19 per lavori di asfaltature in via di ritorto l'invigore restringimento di carreggiato e senso unico alternato da Piazza Baccia al confine comunale. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con regione toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!